Un nuovo spazio si aggiunge al percorso ipogeo del Duomo. È stata inaugurata l'apseudocripta della Cattedrale di Benevento. Il percorso espositivo, allestito dagli architetti sanniti Riccardo e Rosalba Duva, intende narrare in sequenza la storia e la vita della Chiesa Beneventana. L'apseudocripta conserva elementi strutturali di età romana e frammenti di pittura di età alto medievale gotica, tra cui la celebre Madonna della Misericordia e il ciclo pittorico di San Barbato. Un segnale importante per la comunità in un momento in cui Benevento ne ha bisogno. Così l'arcivescovo Andrea Muggione ha commentato all'inaugurazione, alla quale hanno presenziato Monsignor Ernesto Rascaro, incaricato per i beni culturali della regione ecclesiastica Campania, il sindaco Fausto Pepe e diversi rappresentanti istituzionali guidati nella visita da Monsignor Mario Iadanza, vicario episcopale per la cultura di Benevento. Il nuovo tassello di un progetto di recupero che coinvolge l'intero Museo Diocesano proseguirà con l'apertura di altre cinque sale, una all'anno nei prossimi cinque anni. Tra le diverse proposte annunciate è anche la richiesta della Curia di affidare il recupero della struttura della Basilica di San Bartolomeo alla Fondazione Benedetto Bonazzi, che già gestisce gli altri beni ecclesiastico-culturali.